Il vero inventore del cinema non fu Edison e neanche i fratelli Lumière, ma un chimico e pittore francese di nome Louis-Augustin Leoprinse, che un giorno salisse un treno per presentare la sua invenzione, ma da quel treno nessuno lo vide discendere. Nel 1889 l'inventore miliardario Thomas Salva Edison crea la prima cinepresa e altri apparecchi per la visione e nel 1895 nasce il cinema, allorquando i fratelli Lumière effettuarono la prima proiezione pubblica all'interno di un locale parigino. Tuttavia queste cose non sono vere, o meglio, non sono complete. Ci fu infatti un uomo che riuscì ad effettuare delle riprese cinematografiche già nel 1886, quindi alcuni anni prima delle imprese del miliardario americano. Un uomo a cui è legato ben più di un mistero, lui Augustin Leoprinse. La persona che inventò il cinema e che per questo motivo, molto probabilmente, si fece molti nemici. Non si sa con esattezza quante riprese Leoprinse effettua, di quattro però se ne ha la sicurezza. Di questi quattro, solo due sono arrivati ai giorni nostri con tutti i frames completi. Il primo, conosciuto come Traffic Crossing Leeds Bridge, rappresenta una scena di movimento cittadino. Il secondo, intitolato Round Eye Garden Scene, è invece girato all'interno del giardino di un industriale. Entrambi sono databili attorno al 1888 e non durano più di due o tre secondi, però il segnale di un qualcosa di nuovo è nato. Sono i primi film girati dalla storia umana. Sempre più spesso però arrivano voci su altre persone che cercherebbero di riprodurre gli stessi effetti creati dall'inventore francese, numerosi concorrenti e non tutti propriamente corretti. Il nome che viene fatto maggiormente in proposito è quello di un certo Thomas Alva Edison. Per questo motivo Leoprinse decide di registrare la sua invenzione. Egli volle quindi organizzare una proiezione pubblica a New York per la fine del 1890 nel tentativo di trovare i nuovi finanziatori. A settembre del 1890 decide quindi di andare a Parigi in treno per proseguire il suo viaggio verso New York, ma quando il treno arriverà alla stazione della capitale francese non verrà trovata nessuna traccia né dell'inventore e nemmeno dei suoi bagagli. Louis-Augustin Leoprinse sembra completamente scomparso dalla faccia della terra. Il suo corpo ed i bagagli non sono mai stati trovati come anche il suo assassino o rapinatore, ma molti credono sia opera di Thomas Edison, il quale in questo modo divenne il primo e unico inventore delle immagini in movimento. La nave Yoyita venne inaugurata nel 1931 e già durante il suo primo viaggio subì un terribile incendio in sala motori che la costrinse a tornare in cantiere per essere riparata. Durante la seconda guerra mondiale fu utilizzata dalla US Navy come vedetta, venne destinata per l'arbor e arrivò al porto il giorno stesso dell'attacco giapponese. Scampata la distruzione, la Yoyita venne messa a riposo. Il custode che l'aveva in cura morì avvelenato dall'accidentale esalazione di acido della batteria di bordo. Poche settimane dopo due addetti alla manutenzione ebbero un violento litigio a bordo di essa e si uccisero a vicenda durante la rissa. Il 3 ottobre del 1955 la Yoyita partì da Pia ed intraprese la rotta per Fakaofo con 25 persone a bordo. Il viaggio sarebbe dovuto durare solo 48 ore ma la Yoyita non arrivò mai a destinazione. Dei 16 membri dell'equipaggio e dei 9 passeggeri non c'era più alcuna traccia e di loro non si seppia più nulla. Quando arrivarono i soccorsi trovarono un attante parzialmente sprofondato e al suo interno trovarono solo un kit del pronto soccorso ricoperto di sangue. Siamo a Fayetteville, una cittadina del West Virginia, la notte della vigilia di Natale del 1945. I Sodder sono una famiglia numerosa composta da George e Jenny e dei loro 10 figli che vanno dai 3 ai 24 anni. Tutto andava per il verso giusto fino a quando la donna non ricevette una telefonata agghiacciante verso la mezzanotte che cercava un uomo dal nome incomprensibile e che terminò con una risata stridula. Verso l'una e mezza di notte l'incendio di vampone la casa ed i genitori con i quattro dei loro figli uscirono dall'abitazione. George Sodder corse a trovare la scala per andare a prendere i figli al piano superiore ma notò che era stata rimossa. Ormai il piano superiore era completamente inaccessibile a causa delle fiamme ed i 6 parenti non poterno che osservare la casa che andava completamente distrutta con i 5 ragazzi ancora al suo interno. Il sole della mattina di Natale illumina una casa distrutta dal fuoco che sembra aver inghiottito i 5 bambini. Tuttavia non venne trovato alcun cadavere dentro l'abitazione e nemmeno i resti di ossa o qualsiasi altra cosa che facesse pensare la possibilità che dentro ci fosse qualcuno. L'inchiesta fu chiusa ed i 5 figli Sodder dichiarati morti. La famiglia quindi ingaggiò un detective privato per indagare sulla sparizione dei figli ma anche questo morì in circostanze misteriose. La teoria più accreditata è che si sia trattato di un rapimento. In molti credono che a Fayetteville vi sia una vera e propria tratta dei bambini sulla quale la polizia locale corrotta chiude un occhio. Un paio di mesi prima infatti un uomo di Fayetteville si presentò dai Sodder per vendergli una polizza sulla vita. Al rifiuto della coppia l'individuo li mette in guardia. Se non firmano la loro casa verrà data alle fiamme ed i loro bambini scompariranno nel nulla. George Sodder muore nel 1969 mentre la moglie Jenny si spegne nel 1989 senza conoscere la verità dietro la scomparsa dei loro figli.